È il colonnello Filippo Fruttini, 49 anni, in arrivo dalla Calabria, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Piacenza. Il colonnello Fruttini, 49 anni, originario di Perugia, ha frequentato l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, quindi ha ricoperto numerosi incarichi. Comandante di Plotone e compagnia presso il XII Battaglione Carabinieri Sicilia, del nucleo operativo del Comando Provinciale di Caltanissetta, delle compagnie di Iserni e Melito Portosalvo, della sezione anticrimine di Catania, del reparto operativo di Aosta, del nucleo operativo e del reparto operativo di Reggio Calabria, del XII Battaglione Carabinieri Sicilia, in ultimo capo ufficio o aio della legione Carabinieri Calabria. Il neocomandante oggi è stato presentato ufficialmente alla stampa. Per impatto sicuramente positivo, la città si presenta molto bene, mi è sembrata molto tranquilla, molto vivibile, quindi l'impatto sicuramente positivo. Un impatto che avrà avuto anche poi in caserma, con i suoi futuri collaboratori, che situazione si trova a dover dirigere. La realità che ho ricevuto dal colonnello Rotagelpi è sicuramente estremamente positiva, ho trovato un comando molto ben strutturato e ovviato, insomma speriamo di essere all'altezza della situazione. La mia esperienza di servizio l'ho svolta essenzialmente, l'ho avuta essenzialmente in reparti tra Calabria e Sicilia, con due parentesi, una più breve in Molise, la compagnia di Isernia e una un po' più lunga al reparto operativo di Aosta. Ecco, negli ultimi anni ci sono due fenomeni che si sono un po' accentuati anche in questo territorio, uno legato alle rapine, come faceva presente ieri anche alcuni dati relativi alla regione Emilia-Romagna, un altro anche ai fenomeni di spaccio, data la posizione strategica di Piacenza rispetto anche al grande giro milanese. Sì, e questo rende necessario incrementare sempre di più, ottimizzare sempre di più l'attività sia di controllo del territorio ai fini preventivi, sia investigativa per reprimere questi fenomeni. Ma, ripeto, l'attività svolta dal comando provinciale di Piacenza finora è stata eccellente sotto questo aspetto. Il colonnello Fruttini oggi ha poi incontrato il presidente della provincia, Massimo Trespidi. Grazie.